Per la stagione teatrale 2016-2017 è andato in scena martedì 17 e mercoledì 18 gennaio al Teatro Osteo di Taranto un classico della commedia napoletana, Natale in Casa Cupiello, con i dialoghi rimodernizzati dal maestro Luigi De Filippo che abbiamo intervistato prima dello spettacolo. Grazie. 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 i pastori, ci manda la neve, ci manda i spuccini. Non mi piace, non è già facile. Ma guardalo di qua, guardalo di là. Signore, ecco qua. Va bene, lo stavo guardando, va bene, potremmo che faccio? Niente, non mi piace. Ma come è possibile? Non mi piace. Il presello mi piace a gente con tanta di barba, questo mi piace. Questa è la prima prese in giro della storia. Ecco qua, l'ultima colazione nella casa paterna. Mamma, mi hai perduto. Quello là, quel padre è sinaturale.